molto bene, soddisfatta Giovanna? soddisfattissima, guarda il professore bene, allora lo dico ecco, il tipo di questo gioco è la scelta di target per il quale deve avvenire in conto una settimana però per il resto poi fila via abbastanza liscio e a parte di scherzi, suggerirei comunque per rendere un po' più interattivo evitare i tempi morti e prevedere un numero molto superiore di sfide oppure addirittura, come aveva proposto l'Alandia all'inizio tutte le caselle con una sfida a modo da continuare a mantenere un win vero bambini? siete d'accordo su fatto che ci siano tutte le sfide? ah, poi dico un'altra cosa alle persone che domani partiranno per la salute chi si prega di andare fa così, mette l'Alandia qua e se vuoi una messa con l'Alandia o anche se la mette sopra non serve l'Alandia però le due sfade le vengono da una parte o dall'altra quindi una sfada di qua e due sfada e decidete voi allora questa sfada la sua sempre di qua e questa sfada la sua sotto di qua bene? quindi quando vi discorrete così, vi discorrete così però prima di tutto, ragazzi prima di tutto vi dovrete consentare a capire cosa rispondere allora vi lancio la sfida eh vediamo cosa dice la sfida è di matematica ascoltate bene allora, ascoltate bene e se pensate di averne bisogno potete chiedere consiglio a degli avanti che non abbiano frequentato la sua sotto di qua ce ne sono? 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 allora, prego, per la ventura della prima ascoltate, molto attentamente due ragazze colgono 25 fiori Maria accoglie quattro volte quelli di Lucia quanti fiori ha raccolto Lucia? ah ah allora, la rilezzando due ragazze due ragazze due ragazze consultateli a sfada stranamente due ragazze raccoglono 25 fiori Maria raccoglie quattro volte i fiori che ha racconto Lucia quanti fiori ha racconto Lucia? è una cosa difficilissima e dovremmo sapere la risposta? tre bravo allora ok ok, allora una di queste cinque e l'altra è così bravissimo perfetto allora a questo punto vedete che possiamo fare quello che stavate facendo prima cioè così la sua squadra va guadagnando il diritto di giocare per prima e giocare vuol dire prendere tre batte come avrei iniziato a fare prima e decidere come giocarle con attenzione perché ti stavo dicendo che delle persone che hanno presentato le casette alcune hanno bigliettini altre no allora funziona così per quella che hanno bigliettini guarda puoi venire qua e leggere la categoria quindi questo vale per tutti quindi potete guardare di che categoria si tratta magari si tratta a loro favore la leggono e quindi questo è italiano questo è arte ad esempio mentre qui non c'è nessuna categoria allora però attenzione perché funziona così che se voi andate in una casella che non ha nessuna sfida ci potete arrivare e non dovete rispondere a niente ma non passa agli avversari se invece andate in una casella con una sfida cosa succede? ascoltate ragazzi se andate in una casella che ha una sfida voi lanciate la sfida e se trattando la vincete voi di nuovo resta in mano a voi il turno quindi decidete voi che cosa è meglio ma attenzione però perché se andate in una casella con una sfida e la vince la squadra avversaria non solo il turno basta comunque agli avversari ma gli avversari hanno anche il diritto se le carte che hanno preso non gli piacciono di cambiarle ok? quindi è una scelta molto facile allora facciamo che la posso cambiarle la categoria certa potete vederla intanto allontate dove potete arrivare con quelle carte allora le carte che hanno in mano sono avanti, sinistra, destra quindi tutta la varietà possibile e vuol dire che possono muoversi in una sola casetta e poi girarsi dove voglia la categoria è arte ok? vai decidete allora allora mano in giro la testa ok avanti e poi un giro a sinistra perfetto allora quello che hanno fatto va benissimo perché una cosa che non ho specificato è che le carte vanno usate tutte cioè ogni ad ogni turno dovete usare tutte le carte che pescate adesso un attimo allora attenzione che adesso vi legge vi legge la domanda voi andate vicino al basso? no lo so io guarda bella ottima idea allora la squadra della bisera scusate la squadra della bisera è da scendere su un po' non so ci metti un attimo che vorrei dare le vostre stavate com'è come è? si io guarda non ho mai sottile L.C. L.C. Persone in armare. Ebbene, giustamente, non ci si riconosce. Pronti? Come si chiama? L'opera di Raffaello che ritrae la figlia di Federico da Montefettro. Allora, attenzione a persone. Allora, e se vi prontate per rispondere, allora, vi faccio vedere una cosa. Ascoltate, ascoltatevi un attimo. Allora, loro si sono prontati per rispondere e poi vado a rispondere. Se per caso la risposta fosse sbagliata, avete diritto voi di rispondere. Quindi, pensateci tanto. Pronto? La mangiata. Questi amici di Rossi. Ok, allora, ragazzi, ci siamo. Altre tre campi da scegliere per voi. Una, due e tre. Oh, di nuovo, tutte e tre diverse qua. Potete scegliere dove andare. Quindi, questa volta... Ah, davvero, guarda. Allora, tenete conto che dopo che siete passati in una casella che aveva la sfida, la casella diventa buona. Ok? Quindi, se per caso ci doveste tornare, oppure ci doveste passare voi, non trovereste più la sfida. Allora, prendiamo da qua il vino, poi il mio dio, 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 il mio dio. E' un'altra, due, il mio dio. Allora, non c'è il mio dio. Allora, non c'è la mano nel mio dio. Secondo te che hai partecipato all'ideazione del gioco? Allora, voi che avete seguito, come va messo il target all'inizio? Dai, Giovanna, dai sui target! Mamma mia, straordinario! Oh! Complimenti, eh! Hai sentito una buona? Allora, questo, adesso ragazzi, vedete com'è, perché questo è il punto dove dovremmo arrivare, ma arrivarci non sarà per niente facile. Adesso dobbiamo raccogliere i resti della mandira della terra. Allora, non so, perché quello lì è solo una cosa dove dovremmo arrivare, ma lì mi chiede tutto dove bisogna arrivare. Allora, ragazzi, venite un po' qua. Allora, adesso bisogna formare due squadre. Valentina, 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 Valentina. Valentina, Valentina. Non lo so, lo so. Quelle di lavoro sono tanti e tanti giorni. Allora, venite. Allora, dovete formare due squadre che siano lanciate in parte, piccoli e più grandi, cioè, due squadre devono essere cittadini, piccoli e più grandi, quindi, venite un po'? Ci sono i campi squadre che scegliono, voi due, fatti i campi squadre e scegliete? Sì, sì, sì. Vai, scegliete il campi squadre, perché volete, però, perché c'è più piccoli, dai, insomma, fate le squadre. Dai, vieni qua, le squadre. E poi, potete anche scegliere il mio lavoro, il mio lavoro, se volete. Se volete, se pensate che possa essere d'aiuto, rimanete gli adulti evidentemente per aiutare la loro parezza. Vai. Vai, vai. Sei con il caldo, sei con il caldo. Vai. Allora, fatti ci vedete, la scuola, la scuola, la scuola, la scuola. No, 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 no. Vai, vai. Allora, vai venire. Attenzione che adesso vi do. Sì. Deve dire. Allora Guarda voi siete costanti Il cassetto Allora voi mettete voi Voi mettete le cassette E voi siete questo Allora cosa vuol dire? Voi mettete presente che su una specchiera Allora questa è la vostra piedina E voi iniziate a giocare Allora come si fa a iniziare a giocare da qui? In realtà non è facile mettere in testa Contemporaneamente la stessa casetta Sia una cosa che l'altra Quindi la appoggiamo vicino E vedete il cassetto è orientato in questa direzione Quindi rappresenta il robottino Che si muove per così E anche di là la misera va messa dall'alto verso Anzi se volete potete scegliere da che verso iniziamo Cioè potete orientare la vostra piedina Poi in quella direzione o in quella alta E dovrete arrivare la tv Guardate Allora il vostro scopo Parlo alle mie squadre Ascoltate E' arrivare la tv Allora questo deve essere orientato E' così Come se voi steste qui Guardate Se è così vuol dire che sta così Se è cosa vuol dire che sta così Ok? Potete metterlo come volete Come si gioca? Allora si gioca così Faccio un mazzo di carta Perché in attenzione Tutto che avevo le scopo E' così vuol dire che sta così Ah mi ha fatto il mio La schede E' così E' così Quello che abbiamo Il caso L'esposito L'esposito E' freddo 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 Ecco C'è un po' Meno E' freddo E' freddo E' freddo E' freddo Allora Allora E' freddo Eccoci qua Allora, questo è il mazzo di brano e lo appoggiamo qua su una segna. Allora, quello che dovete fare è lasciare lì al momento, anzi le vengo io in mano e voi le venite a prendere, e fare così. Allora, quando una squadra per volta, e la squadra che gioca può scegliere tre carte, anzi deve pescare tre carte, per cui le prime tre che vedo qua, iniziate voi, iniziate, no? Allora, prendete le carte, potete guardare che carte sono e decidere in che ordine usate. Ma cosa vuol dire decidere in che ordine usate? Voi dovete fare il percorso che arrivi laggiù. Ma attenzione, perché vedete che tutte le maestre, le prof e i prof che sono seduti lì hanno in mano dei bigliettini, non tutti in realtà, alcuni hanno in mano dei bigliettini. Questi bigliettini hanno scritto una categoria e fin dalla prima posizione, che è questa, ah scusate, ho sbagliato io alla regola, perché? La prima regola, perché? Perché c'è già qui una sfida. Allora, ogni volta che voi finite in una casella che portiere una sfida, bisogna leggere cosa la sfida propone e le tue squadre devono riuscire a prenotarsi il prima possibile per rispondere. Ma ci si prenota soltanto quando si ha la risposta, non è che prima ci si prenota, poi si dice, non sarà quella sfida. Quindi, prima vi leggiamo la domanda, quindi vi leggiamo la domanda, adesso facciamo così, stabiliamo come si fa a prenotarsi per la risposta. Allora, per prenotarsi per la risposta, quattro di quelle cose lì che ci mettiamo la mano sopra e mettiamo la sega a fare l'altra. Quattro di eccoci a fare l'altra. Allora, le prenoti per la risposta. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì. Sì, 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 sì. Grazie a tutti.